ragazzi mi raccomando iscriviamoci al canale e attiviamo la campanellina allora non me ne frega nulla non ho paura ci sono delle persone su youtube che hanno chiesto soldi e che non li hanno restituiti parlo di persone che hanno canali e soprattutto io ce l'ho con persone che vanno come ospiti su quei canali sapendo benissimo cosa hanno fatto quindi sono complici e come quello che sta in macchina quando quello scende fa la rapina è la stessa identica cosa sono complici quindi voglio fare un appello non date soldi io non sto parlando di donazioni abbonamenti attenzione non date soldi alle persone che ve le chiedono su youtube non date una lira non date nulla più volentieri donate lì a un canile a un gattile l'ho sempre detto da quando ho aperto il canale scusate per la voce ma mi sta andando giù ho fatto un po di baldoria oggi non date soldi alle persone perché se queste persone continueranno ad andare ospiti su certi canali noi non noi io li sputtanerò perché questi sono complici sono a conoscenza che chiedono soldi che non li istituiscono e ci vanno ospiti non bisogna dare soldi su youtube mi raccomando ragazzi non fatevi derubare c'è gente che deruba picchia dei soldi prestamite le ridò poi non li danno più lasciate perdere e a breve o finisce una cosa o a breve per quello riguarda me visto che io poi dopo ho dato la caccia anche un truffatore su youtube per quello riguarda me farò nomi e cognomi di chiedere soldi e non le istituisce su youtube parlando dell'inter e le persone ci vanno come ospite sono c'è sono complici ci siamo abiti che schifo ragazzi che schifo poi di uno nome e cognome su youtube documento e poi dopo vai a chiedere i soldi e non li istituisci vai a lavorare non rompere i coglioni ma io te lo dico a te che vai ospite attenzione perché ci vai di mezzo anche te io te lo dico attenzione ciao